Amici di milan.soccer eccoci come promesso l'appuntamento dell'ora di pranzo per chi non avesse visto il video di questa mattina lo metto alla fine di questo video così magari questa seconda parte perché oggi è un giorno molto importante quindi abbiamo fatto una prima parte stamattina alle 6 45 ora c'è questa seconda parte che è tutta dedicata alle clamorose rivelazioni e soprattutto alle possibili i possibili cambiamenti le rotazioni del nostro mister pioli prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qui sotto di attivare la campanella e per chi vuole anche di abbonarsi come sempre anche il nostro libro romanzo milan il libro per veri milanisti chi lo vuole acquistare qua sotto link in descrizione un libro diciamo un po particolare quindi amazon ve lo porta a casa acquistatelo mi raccomando numerosi perché dobbiamo superare l'altro libro quello che è uscito dopo il romanzo inter quindi dobbiamo come dire essere i più forti almeno dal punto di vista letterario allora ho seguito ieri la conferenza stampa del mister pioli per chi ha milan channel sa che prima c'è un pre conferenza stampa e poi a volte c'è un post conferenza stampa nel pre conferenza stampa ha parlato il nostro come dire leader della comunicazione il direttore se non va derrato proprio di milan channel che appunto suma e ha detto che si potrebbe avere una ipotesi ci potrebbe essere un'ipotesi questa la tengo come la copertina di linus oggi ho proprio bisogno di sentirmi protetto da qualcosa di rosso nero dai chiudo la parentesi che dicevo che suma ha messo un po le mani avanti nel senso buono del termine cioè dicendo che potrebbero esserci delle rotazioni detto stamattina del recupero di tonali per quanto riguarda il newcastle purtroppo beh dobbiamo anche tenere presente che il milan avrà in queste giornate tante in cui scenderà in campo una vera e propria rotazione la più importante stasera contro il newcastle e riguarda il centro campo insomma avete visto la copertina se l'avete vista qualcosa avete potuto intuire la formazione che scenderà in campo per il milan e questa o meglio non nessuno l'ha detta però secondo me sarà questa poi vediamo quanto ho sbagliato allora in porta mike megnan a destra terzino calabria al centro rientrano tomori e ciao o meglio rientra tomori ma ciao riprende la propria posizione dobbiamo dare delle attenuanti a ciao nel derby perché c'erano due questioni che andavano considerate la prima e che lui non gioca mai di velocità lui affronta l'uomo nell'uno contro uno mentre tomori è l'uomo che affronta l'avversario in velocità e poi essendo un doppione di kier si è dovuto spostare in una posizione non sua quindi questi due elementi fanno diciamo così anche comprendere perché il giocatore di fatto abbia fatto un mezzo disastro gioca dunque tomori questo è certo perché era in conferenza stampa e dunque il mister l'ha detto se è qui è perché gioca e l'altro è ciao sulla sinistra ovviamente teo hernandez ma ecco dove il milan dovrebbe andare a cambiare le carte in tavola perché al centro campo ricordiamo la situazione noi abbiamo loftus chic abbiamo reinders e cruz questi sono i tre giocatori che praticamente hanno tra virgolette sempre giocato ora se noi facciamo come dire il gioco dello specchio vediamo che di fronte a loftus chic abbiamo pobega di fronte a reinders abbiamo musà e di fronte a crunic abbiamo adli questi sono diciamo così le prime le seconde scelte ora è chiaro che nessuno condivide questa mia dichiarazione all'interno del milan non ci sono prime e seconde scelte ci sono giocatori però di fatto poi titolari sono appunto loftus chic reinders e crunic qualcosa cambierà che cosa forse pobega al posto di loftus chic o addirittura musà al posto di reinders o adli al posto di crunic sicuramente nelle partite che seguiranno verona cagliari eccetera eccetera tutti giocheranno così sfatiamo una volta per tutte la tradizione di pioli che vede sempre la stessa squadra che dunque ripetersi significherebbe davvero non essere neppure un minimo lungimirante io credo che questa sera giocherà pobega al posto di loftus chic questa è la mia idea anche se reinders ha un po deluso il mister nell'ultima partita chi poi non ha deluso reinders un giocatore pulito giocatore di classe elegante attualmente salvo il derby al primo posto per numero di passaggi riusciti non lo so però l'idea è voler costruire una diga di picchiatori non lo so adesso ho detto una parola forse stupida comunque di 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 gente muscolosa anche perché il 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 newcastle come tutte le squadre inglesi è una squadra forte fisicamente molto forte fisicamente che gioca in verticale che aggredisce molto alto quindi bisognerà vedere se lui vuole mettere una diga dove la qualità per un momento viene alzata a a favore della quantità pobega renders crunic o pobega musa crunic staremo a vedere poi arriviamo alla parte alta ciukwese è favorito per il momento sulla destra rispetto a pulisic in attacco giocherà il solito girù anche se qualche minuto potrebbe essere dato a jovic mentre sulla sinistra giocherà ovviamente leao ocafor invece sarà titolare ma lo sarà contro il verona questa è la fotografia per quanto concerne l'ipotesi di questa partita di champions league sicuramente un girone difficile il mister l'ha detto probabilmente con gli ultimi acquisti questa è una frase che mi vede poco d'accordo solo il paris saint germain è un po più forte del milan io non sono d'accordo sinceramente ora lui continua a dire che è una squadra che lui conosce di qualità molto forte e diamo fiducia ovviamente a queste parole anche perché dobbiamo dovendo risvegliarci da un incubo non possiamo non dare fiducia a queste parole è chiaro che come ho detto nei giorni scorsi non è sufficiente una vittoria col newcastle semmai dovesse arrivare o una vittoria col verona seppur anche fosse 7 a 0 come la roma con l'empoli o una vittoria a cagliari a cancellare tutto però come si dice in gergo quello è il minimo sindacale per poter andare avanti questa sera è una partita non da dentro fuori perché chiaramente non è più costo meglio non è così per adesso poi con il prosieguo però c'è una domanda che mi ha incuriosito qualcuno ha detto forse un giornalista che voleva vedere che tipo di reazione potesse avere il mister ha detto ma l'anno scorso avete fatto bene siete arrivati in semifinale di champions league comunque avete fatto la vostra parte qual è il vostro obiettivo quest'anno ecco qual è il nostro obiettivo mister glielo chiediamo perché qualcuno ha pagato perché i risultati non ci sono stati uno scudetto due anni fa poi giustamente un quarto posto immeritato l'anno scorso e un meritato perché comunque a noi il cartone non piace e dall'altra parte una semifinale di champions league il mister ha accusato il colpo e ha detto beh se lei vuol sentirsi dire che migliorare significa arrivare in finale o vincerla questo non glielo posso garantire non glielo posso dire di fatto noi adesso come primo obiettivo abbiamo di superare un turno ed è un turno complicato perché le squadre sono veramente difficili va bene staremo a vedere manca poco perché i ragazzi scendono in campo sempre forza milan saremo lì a fare il tifo saremo lì ad applaudire saremo saremo lì ad incitare e poi a fine partita vedremo di tirare ancora una volta le somme a più tardi al dopo partita ciao ciao ciao